Recuperare e sviluppare il turismo legato ai piccoli borghi delle aree interne è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato ieri a Palazzo Silone all'Aquila con i sindaci della provincia di Chieti. Il programma è finalizzato a finanziare interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile per il recupero di borghi di aree interne ed il rilancio delle micro imprese. L'assessore Paolucci, il consigliere D'Alessandro hanno molto spintonato affinché avessimo un atteggiamento di chiaro riguardo per i comuni di questa parte bellissima della provincia di Chieti consentiremo attraverso questi investimenti l'ulteriore abbellimento dei borghi della provincia di Chieti in maniera tale che migliori la collocazione turistica la loro presentabilità, la loro immaginabilità. Io ringrazio molto i sindaci poiché hanno saputo elaborare, prefigurare e comporre tra pubblico e privato per fare in modo che tutto si presenti idoneamente. continuiamo a investire su questo fronte poiché vogliamo scommettere sulla irripetibilità dell'Abruzzo per vincere la competizione internazionale.